L'assessore al turismo Elvira Amata ha firmato il decreto che adotta l'elenco aggiornato dei comuni turistici della Sicilia in base alla più recente classificazione compiuta dall'Istat. Complessivamente sono 291 le località individuate nell'isola dall'Istituto Nazionale di Statistica. Si tratta di uno strumento di particolare rilevanza, dichiarato Amata, che consente ai comuni che ne fanno parte di istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive. I proventi contribuiranno a promuovere i territori migliorando nell'attrattività turistica. All'interno del decreto c'è una folta presenza dei comuni della provincia di Caltanissetta, di Agrigento e di Enna. Nello specifico nel territorio agrigentino troviamo Aragona, Bivona, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Castel Termini, Castro Filippo, Cattolica Eraclea, Favara, Lampedusa e Linosa, Licata, Menfi, Montallegro, Montevago, Palma di Montechiaro, Portempedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Santa Margherita di Belice, Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano di Quisquine insieme a Sciacca e Siculiana. Mentre nella provincia di Caltanissetta, Bonpensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Gela, Mazzarino, Monte d'Oro, Mussomeli, Riesi, San Cataldo, Serra di Falco, Sommatino, Sutera e Villalba. Nell'Enese infine a Gira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catena Nuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietra Persia, Regalbuto, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa. Grazie. Grazie. Grazie.